E' un'altra cosa? Andiamo, eh? Danilo, per favore, eh? Ma che vuoi fare? Danilo, potrei tornare a fare scenate? Ma che mi hai preso per un ragazzino, eh? Basta! Basta il cazzo! Tu adesso vedi il tuo culetto, lo metti sul cedino della macchina e vieni via con me, hai capito? Adesso, mi sei ubriaco! Danilo, la lasci adesso, andai. Dice questo? Parla pure adesso. Ma brutta! Senta, senta, parla! Non mi fermi, non mi fermi! Aiuto! Da ditta, da ditta! Senta che a me, forza! Lei non può, io in qualità. Che cazzo vuoi? Io non posso assolutamente permettere. Ciao, eh? E ora basta, noi, io! Basta! Andiamo. Andate, non sistemate, andiamo. Non può venire mica di così, eh? No solo dov'io è Gesù! Sì? Grazie per la visione!